Ti piacerebbe diverti una sessualità più appagante, aumentare il tuo piacere ed avere orgasmi più profondi ed intensi? Ascolta esattamente quello che ho da dirti in questo video. Ho aiutato moltissime donne a migliorare la propria sessualità e a scoprire l'orgasmo interno. Ho aiutato molte donne anche a risolvere dei problemi di salute come l'incontinenza, il prolasso o anche semplicemente a viversi meglio la gravidanza, il postparto e la menopausa. Ora voglio spiegarti come. Tutto ha origine nella tua vagina. Se la muscolatura del pavimento pelvico non è sufficientemente forte e tonica, la tua sessualità sarà fortemente penalizzata. La muscolatura vaginale è importantissima ed è intimamente connessa con il tuo piacere sessuale, la tua capacità di avere l'orgasmo profondo. Uno studio recente di un istituto di ricerca americano sostiene che l'80% delle donne non sperimenta regolarmente l'orgasmo interno. Queste donne non sono connesse con la propria vagina. E tu? Questo è un problema molto molto frequente e sempre più donne affermano di sentire la parete interna della vagina poco sensibile e recettiva al piacere. Esperienze sessuali poco piacevoli o tabù legate all'educazione possono creare della tensione psichica che si ripercuote sulla tua vagina, bloccando la tua energia sessuale e la tua femminilità. Poi se la muscolatura intima e il pavimento pelvico non sono in forma puoi andare incontro a dei problemi di salute, a partire dalla delicata fase del parto ma anche andando avanti con gli anni, l'incontinenza urinaria che se diventa grave, il prolasso, ritiene necessario l'intervento del chirurgo. Questi sono problemi femminili molto frequenti e donne anche molto giovani possono andare incontro a queste problematiche come la secchezza vaginale e il talo della libido. La sessualità è importantissima, influenza tantissimo la tua vita, la tua energia, il tuo stato mentale, il tuo umore, più di quanto pensi. Una donna sessualmente bloccata tende ad essere nervosa, ingrigita. Anche Freud sosteneva che le donne che hanno una sessualità superficiale tendono ad essere isteriche. Se non riesci a liberare la tua energia nel letto, come puoi pensare di liberare il tuo massimo potenziale nella vita. Le due cose sono intimamente connesse. Quando l'energia sessuale è bloccata, l'energia generale di una donna non fluisce liberamente e questo influenza il tuo modo di viverti come donna, il tuo modo di porti nel mondo e la relazione con gli altri, la relazione col tuo partner. Nella frenesia della vita moderna, tra il lavoro, la famiglia e mille impegni, quante donne si dimenticano di curare questo aspetto così importante della loro femminilità, la sessualità, che al posto di essere una fonte di felicità e di energia, diventa un'ombra scura che appesantisce e ingrigisce. Ma c'è una soluzione. Programma IoniEgg è un percorso semplice, efficace e unico, finalmente in esclusiva anche in Italia. Io sono Amita. Mi sono formata all'estero, con grandi maestri, custodi di una cultura orientale millenaria e tutto ciò l'ho fatto con Marco, il mio straordinario compagno di vita e di lavoro. Come insegnante ho aiutato tantissime donne a ritrovare una connessione con il proprio piacere e sessuale. E tantissime voglio aiutare in futuro. Magari sarei proprio tu la prima. Tutto ciò che insegno è frutto della mia esperienza diretta e degli insegnamenti dei miei maestri. Qualche tempo fa, quando mi sono resa conto che quello che avevo scoperto funzionava non solo per me, ma anche per le donne alle quali insegnavo, allora mi sono decisa a voler condividere con ancora più donne. E per questo ho creato il programma Yoni Egg. Io uso lo Yoni Egg da tantissimi anni e sinceramente ha migliorato tantissimo la mia sessualità. Lo Yoni Egg è stata una vera rivelazione per me. In breve tempo ha trasformato la mia sessualità, che ora è molto più profonda ed appagante. Una vera trasformazione. Per questo oggi sono qua a parlarti di programma Yoni Egg. Perché io sostengo profondamente che una donna sessualmente felice ha più energia da dare al mondo. È una donna che è libera, una donna che è centrata, una donna che è forte e vitale. Perché ti dico questo? Perché l'ho sperimentato su di me in prima persona. Sentite cosa mi scrivono le mie allievi dopo i miei corsi. Questo modo nuovo di vivermi la sessualità mi ha trasformato la vita. Prima era una donna sessualmente frustrata, adesso il mio piacere è per me una grande fonte di energia e felicità. Yoni Egg è stata una vera scoperta. Lo uso ogni volta che devo ritrovare una connessione profonda con me stessa. In programma Yoni Egg ho condensato anni di esperienza e pratica con l'uso dello Yoni Egg per renderlo una guida semplice per te. Ma sappi che non parlo solo di Yoni Egg. Infatti nel corso troverai anche le lezioni di anatomia necessarie per conoscere la collezione del tuo corpo e del tuo pavimento pelvico e conoscere gli esercizi adatti al tuo corpo. Oltre ovviamente agli innumerevoli benefici che ora andiamo a rivedere. Primo fra tutti. Notevole aumento del piacere sessuale per orgasmi più profondi ed appaganti. E questa è una promessa. Ricominciare a viversi bene il proprio corpo e il sesso. Eliminare memorie traumatiche dalla vagina. Prepararsi per la gravidanza, il parto e la giusta riabilitazione post-parto. Eliminare il fastidioso problema dell'incontinenza urinaria e prevenire il prolasso. Eliminare la secchezza vaginale e altri piccoli problemi legati alla fase della menopausa e molto molto altro. Gli effetti e benefici della pratica dello Yoni Egg sono tantissimi, ma attenzione perché la pratica va eseguita correttamente in base alle necessità del tuo corpo e seguendo dei consigli professionali. Ogni donna è diversa e sì, puoi procedere da sola, ma attenzione perché potrebbe essere controproducente o addirittura pericoloso. Su internet poi si trova tantissima roba, sullo Yoni Ego, per migliorare la sessualità. Insomma, se procedi da sola, stai attenta e sincerati di affidarti a delle persone professionali. Vedi, ad esempio, la pratica per tonificare la muscolatura intima deve essere molto molto graduale per ottenere il risultato di un pavimento pelvico tonico forte ma anche elastico. Bisogna assolutamente evitare di creare tensione nella muscolatura intima. Se vuoi procedere in modo sicuro, in programma Yoni Ego troverai tutte le informazioni per avere il massimo dei risultati senza effetti collaterali. Io ti spiegherò tutto quello che devi sapere, da A alla Z, per procedere in modo efficace e sicuro. Clicca qua sotto, iscriviti a programma Yoni Ego, così possiamo cominciare a lavorare insieme immediatamente. Ti basteranno 10 minuti di esercizi al giorno e io sono qui per insegnarteli ed assisterti fino a quando diventerai un'esperta. Insomma, voglio affiancarti perché tu possa cominciare questo percorso verso una sessualità consapevole. Clicca qua, ti aspetto. Ciao!